La collaborazione nasce da una collaborazione che abbiamo iniziato già da qualche tempo anche con Donation Italia come con altre realtà territoriali, sia le istituzioni e sia le organizzazioni che lavorano sul territorio. L'osservatorio vuole essere un punto di riferimento per fornire informazioni su ciò che accade sul territorio e anche recepire informazioni su ciò che accade sui territori e provare anche a mettersi al servizio dello stesso territorio rispetto per esempio alla possibilità di costruire insieme dei convegni, di costruire insieme delle ricerche, di costruire insieme anche dei legami e di promuovere delle nuove attività che possono in qualche modo far migliorare le condizioni di vita delle persone. Infatti loro si occupano di tante iniziative interessanti, fanno rete già, quindi hanno una loro rete anche sul territorio, riescono a coinvolgere persone in una nuova cultura della donazione, quindi del dono, della reciprocità, del legame sociale, della costruzione e della solidarietà e quindi noi come osservatorio politiche sociali siamo interessati a guardare e a collaborare con loro rispetto a quello che può accadere sul territorio, a quello che si può progettare per il territorio. Per questo nasce questo incontro con Donation Italia e con tutti i membri poi naturalmente del comitato. Oggi ci accendiamo a questo protocollo di intesa tra l'osservatorio delle politiche sociali dell'Università dei Studi di Salerno e l'associazione Donation Italia, che è un modo per unire e creare questo connubio tra il territorio salernitano, insomma le realtà sociali, i giorni di Salerno e l'Università. Sempre più noi siamo alla ricerca di spazi, luoghi dove poter esprimere, dove poter accrescere anche, diciamo, delle esperienze umane e delle esperienze professionali. E quindi, insomma, ritenavamo necessario questo protocollo per unire le forze, per provare sempre più a creare sinergie, sinergie utili, ripeto, insomma, alla crescita del territorio salernitano in primis, dei giovani che hanno necessità, insomma di tutti coloro i quali poi sentono proprio l'esigenza di doversi affacciare anche al mondo universitario. Creare quindi questo ponte che colleghi il mondo sociale, l'Università, ma anche poi, insomma, la provincia tutto, insomma, quindi Salerno come capolugo, ma sostanzialmente Salerno anche come un momento di arrivo e di approdo per tutte quelle che sono poi queste ricerche che noi svolgiamo, insomma, tra i giovani e le varie esperienze. Ringrazio il responsabile, appunto, il responsabile Rossella Trapanese per questa occasione e questo momento e, insomma, sarà soltanto un punto d'inizio dove poi noi inseriremo anche l'amministrazione comunale di Salerno in questa collaborazione con l'obiettivo, appunto, insomma, di crescere sempre più il concetto di rete e di stare insieme e lavorare, in particolar modo, ripeto, tra i giovani, con le associazioni e con il territorio.